pescatori bellissimi siamo a parco rio a turania adesso vi faccio vedere questo è l'acqua guarda che ne è la sardegna questo è il parco rio fondo pieno di merma e acqua torbida solo acque torbide fatto dei video dei video sottomarini che sono spettacolari adesso vi faccio tempo dei pesci fantastici che sono arrivati salmerini grossi taglia 700 chili e mezzo questo fra domani e lunedì sono finiti tutti quindi l'aspetto al lago più bello del mondo pesci sono arrivati fino a 5 kg o trote sono arrivati fino a 5 kg anche oltre i 5 kg domattina è entrata libera domenica mattina c'è la gara fino a mezzo giorno e mezzo a grado di trote giganti lunedì è entrata libera dalle 8 domani fino a 17 domenica fine 17 e lunedì fino ai 14 perché a vigilia di capodanno eccole qua solo acque cristalline parco rio durania dalla ghettaro più bello del mondo che sta passando di livello e da bello sta diventando iper fantastico come supermercati a supermercate per mercata la stessa cosa ciao a tutti buona serata